Oltre all'abituale sessione dedicata alla discussione del bilancio di assestamento, l'ultima settimana di luglio ha visto il Consiglio provinciale riunirsi anche in seduta straordinaria per discutere la legge Omnibus. Questa conteneva, insieme a disposizioni che facilitano l'assunzione nel servizio pubblico di persone con disabilità, il rafforzamento delle farmacie rurali e la regolarizzazione di personale sociosanitario assunto durante la pandemia, l'introduzione di un limite ai posti letto in ambito turistico. L'articolo sul tema è stato il più discusso, è stato infine approvato con la specifica che il relativo regolamento d'attuazione sarà discusso in commissione legislativa. La legge Omnibus è stata approvata con 15 sì, un no e 14 astensioni. In quanto al bilancio di assestamento prevedeva l'assegnazione di 404 milioni quale avanzo disponibile dal rendiconto 2021. Come spiegato dal presidente della provincia Arno Compaccer, essi venivano assegnati a settori quali sociale, agricoltura, mobilità, ricerca. Previsti un'assegnazione straordinaria per famiglie con figli, un aumento della soglia ISE per gli aiuti, un supporto, una tantum per l'economia lattiero-casearia, ristori per impianti funiviari, fondi per il ricorso a fonti energetiche non fossili, nonché l'ampliamento del personale provinciale di 114 posti. Gruppo Verde, Movimento 5 Stelle, Freiheitlichen e Tim K hanno espresso voto contrario al disegno di legge di assestamento, sia per il passaggio di un miliardo di euro dal fondo di riserva senza controllo, sia perché ne risultava una cattiva programmazione iniziale, sia perché privo di focus sul sociale, come rilevato anche da Südtiroler Freiheit. Il relativo disegno di legge è passato con 18 sì, 13 no ed una stensione. Grazie. Grazie.